Oggi è sicuramente il modo migliore per testare quello che abbiamo appreso in formazione e quello che siamo riusciti a capire e a comprendere e questo ci permette anche di migliorare. Un campo prove vero e proprio per testare tutte quelle che sono le casistiche che si possono presentare durante il lavoro. Questa è la giornata dedicata alla sicurezza, un vero e proprio campionato voluto da Centria. Nove squadre in altrettante postazioni che si sono potute confrontare e formare all'interno di tutte quelle casistiche che si possono verificare nella filiera della distribuzione del gas. Il condatore gira, tutto a posto, ora si è fatta, si rimanda in blocco e via. Centria, società del gruppo Estra attiva nella distribuzione di gas naturale e nella distribuzione e commercializzazione di GPL, ha voluto questa giornata all'interno del campo prove allestito presso la sede di Arezzo di Estra che continuerà ad essere utilizzato in maniera stabile per la formazione del personale. Estra investe moltissimo in formazione e in formazione per i propri dipendenti, in particolare su Centria che è la nostra società di distribuzione, quella che si occupa dei tubi, del sottosuolo, degli impianti, fa tanta formazione. Quest'anno 4.500 ore, per noi il lavoratore è sacro e va tenuto in sicurezza, non esiste sicurezza se non c'è informazione e formazione e questa fa anche la differenza nel mercato perché un'azienda altamente professionale che guarda la sicurezza dei propri dipendenti significa anche che opera in maniera assolutamente affidabile anche per gli utenti. Il campo prove qui di Arezzo non solamente è unico in Italia ma è anche certificato, rimarrà come elemento stabile oltre questa giornata, è stato progettato e realizzato dalle persone di Centria, fatto proprio per simulare qualunque tipo di situazione che si può verificare durante il lavoro ordinario e adottare quindi le misure di prevenzione per evitare qualunque evento indesiderato. La cerimonia di premiazione della squadra vincitrice si svolgerà il 24 di ottobre. Il premio è essere formati, lavorare in sicurezza ma anche quello di fare squadra, nel senso di competere in modo positivo nel cercare di trovare le best practice in quello che facciamo tutti i giorni.